ecco l'entrata entriamo a romix è già intravedo parecchie persone in maschera dopo se ci sarà tempo le inquadrerò meglio vedo che ci sono tantissime persone e soprattutto sull'autostrada era pieno di macchine ci abbiamo messo un'ora in più rispetto al previsto quindi spero di incontrare cristina davena e farvela vedere ci proverò in tutte le maniere ma la gente è tantissimo cerco di fare il possibile se non ci riuscirò pazienza mi dispiace per voi ma io ci ho provato